Quello che io chiedo adesso, in questo momento, è la collaborazione, perché secondo me non c'è collaborazione, non c'è da parte delle istituzioni dell'Asio tante brave persone, tante persone che vogliono o vogliono di lavorare, però disorganizzate, che soprattutto con noi non hanno un rapporto continuo, nel senso che noi mandiamo le mail, stanno implementando la cosa chiaramente, ma io non, ripeto, non sto chiedendo la luna, sto chiedendo solamente delle cose semplici, di dirci se ci possiamo fare dei tamponi ai nostri pazienti, quanti ne possiamo fare, se ci è data disposizione, chi vuole liberamente dei miei colleghi, per carità, non tutti, molti non vogliono rischiare, io dico se devo incontrare un pericolo nel mio lavoro è bene che so chi è, so che ho davanti un paziente che ha o non ha il virus. Quello che manca, secondo voi, è un raccordo col territorio, una collaborazione con la prima linea sul territorio, questo che in questo momento sentite un po' lasciati a voi stessi. Al di là di noi, del nostro rischio, che dici tu, fai il medico, sei sempre a contatto con gente che ha malattie, ma è per la popolazione, per i nostri pazienti, perché il lamento continuo degli operatori, degli ospedali, del 118 eccetera, sono che arrivano persone tardi in ospedale, arrivano tardi perché prima non hanno avuto una sorveglianza attiva, non da nostra parte, ma anche da quelli che magari sono addetti a quella sorveglianza, c'è gente che comunica la positività e poi sta lì, sta lì in eterno, vengono chiamati, non vengono chiamati, è difficile. Io vorrei solo una maggiore collaborazione da parte dell'ASUR, ma collaborazione fattiva, cioè di poter parlare con qualcuno e di poter dire quello che a me serve. Al di là dei tamponi asintomatici, che sono il pericolo maggiore, signori, gli asintomatici, ricordatevi, e gli asintomatici noi li conosciamo, perché se questo ha avuto un po' di tosse, due linee di febbre, due giorni, tre giorni, poi non c'è più niente, che già però mi chiamano, perché ci chiamano tutti. Siamo noi che conosciamo il territorio, non l'Istituto Superiore di Sanità, noi conosciamo il territorio. Quindi lì non ti dico, dateci a noi più potere, possiamo evitare di portare gente in rianimazione, in acuto, possiamo evitare con i nostri mezzi, con le nostre situazioni di prevenire tutte queste situazioni, di curare la casa.